Sabato di festa per il comune di Camporgiano, la comunità si è riunita per accogliere il cardinale Lorenzo Baldisseri che ha le sue origini proprio nel comune Garfagnino. La mamma era di Poggio e il papà di Roccalberti. Dopo aver salutato le associazioni, le autorità religiose, civili e militari, il cardinale è stato ricevuto ufficialmente nella sala consigliare dove è stato omaggiato di alcuni libri riguardanti la storia e i personaggi del territorio. Successivamente Baldisseri ha partecipato ad un incontro riservato dedicato al futuro di Palazzo Bertoli, una struttura affatiscente situata a Poggio che gli enti locali vorrebbero trasformare in una casa museo che potrebbe ospitare oggetti di arte sacra. Ed è proprio al Poggio dove si sono consumate due inaugurazioni di altrettanti spazi mercatali, alla presenza del sindaco Francesco Pifferi, del presidente del credito cooperativo della Garfagnana e Versiglia Guidugli e del presidente del GAL Garfagnana Luigi Favari, i tre enti che hanno realizzato questi luoghi. Due piccole piazzette all'interno del borgo saranno destinate alla promozione dei prodotti tipici del territorio grazie a mercati che verranno organizzati in più occasioni durante l'anno, ma diventeranno anche spazi per normali bancarelle commerciali. La manifestazione è stata animata dalla banda musicale Alfredo Catalani, diretta dal maestro Mauro Peccioli. Grazie a tutti!